Il manager di Ghelas, l'ingegnere Pietro Inferrera, aveva già spiegato durante una delle ultime sedute di consiglio comunale sul tema della municipalizzata che la bozza di bilancio 2023 faceva segnare una chiusura in positivo. La molti servizi va avanti nonostante le tante difficoltà dovute ad un personale ormai esiguo e allo stato di dissesto del municipio che non facilita le cose. La giunta ha varato una proroga tecnica all'ennesima per i prossimi tre mesi, dato che la Sisei Civica non è riuscita ad esprimersi sul contratto almeno fino al prossimo dicembre. Il management di Ghelas probabilmente in settimana trasmetterà il bilancio ormai definito ai revisori dell'azienda, toccherà all'organo di controllo effettuare le verifiche e gli accertamenti. Inferrera ha dato una linea piuttosto precisa e rimane alla guida nonostante il gruppo più vicino al sindaco Lucio Greco di recente abbia cercato di capire se ci fossero le condizioni per un cambio in corsa prima di lasciare Palazzo di Città. L'ingegnere, ritenendo di aver operato secondo criteri di efficienza per l'azienda, ha escluso un passo indietro ricordando che lo scorso anno le sue dimissioni non erano state accolte. Toccherà alla nuova amministrazione comunale dopo le urne di giugno mettersi al tavolo con Inferrera per capire quali prospettive dare all'inaus che necessiterebbe di più personale ma soprattutto di un contratto pluriennale per programmare. Gli atti finanziari e le altre impellenze saranno varate proprio con l'avvento del nuovo sindaco. Lo stesso Inferrera potrebbe poi pensare di lasciare il proprio incarico condotto sulla scia del risanamento.